E che si mangia oggi? E ve lo dico io, girelle di carne filanti. Buonissime! Trasferite il macinato di carne in una ciotola e condite con sale, pepe, prezzemolo tritato e aglio. Aggiungete quindi l'uovo, il formaggio grattugiato e un po' di latte. E impastate bene il tutto. Se necessario aggiungete anche del pan grattato. Aggiungete un filo d'olio sulla carta da forno e distribuitelo su tutta la superficie. Appiattite e stendete la carne fino a formare un rettangolo. Aggiungete un cucchiaio di formaggio grattugiato. La probola. In questo caso è affumicata, ma potete scegliere quella che preferite. E quindi la mortadella. Al posto della mortadella potete utilizzare il prosciutto cotto oppure delle verdure. Con l'aiuto della carta da forno arrotolate bene il tutto. Aggiungete del pan grattato e richiudete bene il tutto. Trasferite in frigorifero. Trascorso il tempo di riposo in frigorifero, tagliate le girelle dello spessore che desiderate e panatele nel pan grattato. Quindi trasferitele su un piatto di portata. Cuocete le girelle in padella, in forno o in frigitrice ad aria, aggiungendo del rosmarino oppure dell'alloro. Giratele a metà cottura. Quindi coprite e proseguite con la cottura. Eccole qui, deliziose, filanti, succulente, buonissime!